dalla quale è nata la mia passione. Io mi sono appassionato di montagna a partire da questo rincolo. È un nome abbastanza importante, altisonante, io non sono un ambientista, io sono un escursionista essenzialmente e mi piace andare in montagna come tutti voi, più o meno perché mi piace provare le sensazioni dell'aria aperta, del benessere fisico, del sentirsi vivi quando si va in montagna. Questa sera io voglio condividere con voi l'esperienza che ho avuto dal 2004. Io sono abbastanza fresco di montagna, ho cominciato a lotarvi, avevo 34 anni e non è che abbia potuto fare grandi esperienze. Quello che io però voglio condividere con voi è la mia esperienza di quello che può significare sicurezza in montagna. Paradossalmente io ho cominciato nel 2004 con le invernali, io andavo su terreno innevato e senza attrezzatura, quindi in un modo assolutamente inappropriato perché non si va in montagna così senza attrezzatura, senza compagni ricordata perché andavo da solo e quindi sono un pessimo esempio, in realtà però questo mi ha fatto fare delle bellissime esperienze e ho capito l'importanza sia della preparazione, del conoscere i mezzi, le attrezzature, sia l'importanza dell'andare in gruppo. Io volevo farvi vedere, ma da tutti e due i versanti c'era il vuoto. Ecco qua, stava più o meno su questi ghiaioni qui. Lui era solo, non c'era più nessuno, neanche dall'altra parte. I due compagni che erano passati prima erano continuati ad andare avanti. Io e il mio altro compagno eravamo tornati indietro. Per un puro caso io ho sentito che era scivolato. L'ho potuto saltare, gli stavano cedendo le gambe. Io ho allungato un bastoncino e l'ho tirato su. Abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato tutti. Primo, non ci dovevamo separare, non esiste. Io continuo a farmi oggi i sensi di gomma, potremmo perdere un amico. Due, vuoi provare? Sì, ma attrezzati, con le corde, non provare così. E questo significa andare in gruppo. Non si spezza il gruppo. Eppure abbiamo sbagliato. Ed è facilissimo, ma è un istante che non te ne rendi neanche conto, perché sì, sì, sembra normale. Sì, io vado avanti, no, continua, vai, no, eh sì. Non è così. In montagna non si gioca. Grazie a Dio quel giorno è andata bene, eccoci qui, siamo sul prena. Siamo arrivati tutti sani e salvi. Poteva essere una pessima giornata. Io spero di non annoiarvi, insomma, sono mie esperienze che però vogliono portare a... vogliono essere d'aiuto per fare le scelte giuste. Non mai sottovalutare la montagna. Questa è un'uscita in... Grazie. 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 Pennino è una montagna che si presta a qualsiasi tipo di attività eccezionale, dall'arrampicata fino alla camminata. Io predeligo la camminata. Sono essenzialmente un escursionista e mi piace molto camminare perché mi dà la possibilità di pensare, riflettere. Sì, forse qualche volta mi porto anche dei problemi della vita in montagna, ma è un buon modo per pensare ai propri problemi e passarli, risolverli nella propria mente. La montagna come un modo per guarire dei problemi di tutti i giorni, insomma, le tensioni, scaricare la tensione. Poi nonché l'appennino, oltre alle forti emozioni che può dare dal punto di vista del bel paesaggio, oppure vedere il dilupo, quindi le forti emozioni che si provano in montagna, l'appennino ti guarisce, ti dà l'opportunità di accrescerti anche culturalmente. È un'occasione per sviluppare la salute, cammini e quindi stai bene. Quindi la montagna e l'appennino sono veramente pieni di grandi occasioni. Io fin dall'inizio ho tentato di divulgare, e questo attraverso il sito Aria Sottile, questa mia passione, questa passione che io ho per la montagna, trovo che porti grandi benefici dal punto di vista della salute, della cultura, della conoscenza del proprio territorio. L'ultimo passo che io ho fatto è stata la pubblicazione del libro. Io ho presentato e ho portato questo nuovo libro, questo nuovo libro, un manuale di consigli, di vissuto. Io ho imparato a frequentare la montagna e lo sto divulgando. Questo manuale pratico parla di ciò che si può fare in appennino, conoscendo il proprio corpo, la tecnica e il territorio.